Questo non ci voleva, purtroppo è successo. Siamo qui oggi a così specificare, a chiarire quello che è l'attuale situazione della nostra sede comunale. Una sede comunale che ha i suoi anni ma che sembrava, tuttora io stendo a crederci, sembrava super stabile, invece purtroppo ci sono delle criticità di stabilità. In credulo il sindaco di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente, il palazzo del comune non soddisfa, come detto, i requisiti di sicurezza, verrà demolito e ricostruito, si spera, in tre anni. La chiusura si rende necessaria all'esito dei rilievi effettuati attraverso indagini geologiche e geotecniche, prove di laboratorio dei materiali utilizzati per le strutture. L'edificio non soddisfa le condizioni statiche, pertanto è stato predisposto un intervento di messa in sicurezza con l'inibizione per il momento del secondo piano e la pose in opera di adeguate strutture provvisorie di puntellamento in zone del piano terra e del primo piano. Questa bellissima sede, dopo tante riflessioni e spiego il perché, dovrà essere abbattuto. La spiegazione è semplice fatta, per metterlo in sicurezza a norma, per adeguarlo a quello che potrebbe essere la sicurezza totale, la spesa stimata di circa 2 milioni e mezzo. per una nuova sede, sempre posizionata qui, sullo stesso posto, anche per usufruire di fondi, perché se spostiamo la sede si perdono anche questa possibilità, per poter completare l'opera che sarà ampliata del 20% come cubatura di quello che c'è oggi, quindi ci permetterà di avere altre, diciamo dal comando di vigile o altre postazioni di lavoro, sempre presente in questa struttura, la spesa oggi stimate di circa 4,2-4,3 milioni di euro. Per fortuna abbiamo già intercettato alcune quote importanti come contributo statale e regionale statale, speriamo di riceverne altre. Il sindaco mostra la nostra telecamera all'interno del municipio e puntellamenti, in particolar modo del secondo piano, ma non solo, inagibile anche la sala del Consiglio Comunale. I tempi per la demolizione e la ricostruzione saranno lunghi? Noi per il momento abbiamo concordato con i tecnici di effettuare queste puntellature per restare dentro il tempo necessario che la chiesa attuale, cioè l'attuale sede della Santa Chiesa, che è ex scuola, quindi struttura comunale, venga liberata perché loro si sposteranno presso la nuova struttura di botta, cosa che avverrà nel mese di giugno. Dopodiché allestiremo in quel salone, in quell'area, tutte le impostazioni degli uffici per poi trasferirci. Questa verrà, presumo, tra settembre e ottobre, lo spostamento, per dopo partire con la demolizione e la ricostruzione, ma i tempi saranno di circa tre anni.